Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Siamo tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Challenge Lock a Pokemon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti verso Olivinopoli perdendo purtroppo due membri, non troppo importanti, ma comunque due membri della squadra, ossia Manny ed Eredità, che non sono durati neanche un episodio, quindi un applauso virtuale a loro. Ragazzi, prima di iniziare volevo ringraziarvi per come sta andando la serie, per tutti i like che lasciate, proviamo anche quest'oggi a raggiungere 200 mi piace come in tutti gli altri episodi della Challenge Lock, perché vedo che la serie vi sta piacendo un sacco, sono motivatissimo ad andare avanti. E con un vostro like lo sarei ancora di più. In ogni caso ragazzi, vedete un po' di novità grafiche, soprattutto sulla mia faccia, vedete le cuffie che ho trovato in giro per casa e le ho messe. Trovate la facecam frontale, ditemi se la preferite magari più nella posizione della volta scorsa o in questa. Ragazzi, prima di iniziare questo episodio abbiamo da fare una cosa molto molto importante, oltre a dire la Challenge, ossia evolvere il nostro Starly. Prima di iniziare però tutte queste cose volevo scusarmi con GeneDegreninja, perché sì, è successo di nuovo, nello scorso episodio mi sono dimenticato di mettere il tuo commento nel video, quindi mi dispiace e nulla, lo metto qua penso da qualche parte nel video. Spero di essermi fatto perdonare, mentre la Challenge di oggi ragazzi è raggiunto 17 mi piace, una cosa allucinante per un commento, ed è In ogni percorso non potremo fare la prima cattura, ma la seconda, quindi banalmente se al primo percorso, alla prima cattura, al primo percorso, alla prima cattura dovessimo trovare Articuno, non potremmo prenderlo. Se alla seconda dobbiamo trovare The Big Sass, oddio sono andato totalmente in Mona. Se alla seconda cattura dovessimo trovare invece un Magikarp, quella sarebbe la nostra cattura del percorso e quindi, oddio. Allora, qua dovrei averla già fatta la mia cattura, ma prima ragazzi, cosa fondamentale, evolviamo il nostro Starly, che ho allenato amorevolmente, noterete tra l'altro un'altra cosa. Sì, non c'è Jigglypuff nella sidebar, questo è nemmeno in team tra l'altro, inizia benissimo quest'episodio, uno spettacolo. Cioè, siamo passati dall'evolverlo a rischiare di perderlo, ok. Meno male che ti evolvi, così a meno ora sei forte. E nulla ragazzi, vi stavo dicendo appunto che non ho messo Jigglypuff a fine squadra perché raga, è una pippa, non è possibile. Io sono stufo di prendere le squadre a Pokémon de merda e di non riuscire a portarli avanti per un episodio. Quindi ho preferito evitare di allenarlo e aspettare magari di trovare qualche membro più valido. Anche perché ragazzi, un tipo normale ce l'abbiamo già e se non sbaglio dovrebbe essere Strength. Tra l'altro anche Starevie è di tipo normale, quindi tecnicamente ne abbiamo addirittura due. Ok, perfetto, curiamoci finalmente i Pokémon e possiamo andare, ora, finalmente, davvero, verso la prossima città. Per ottenere la pozione che poi dovremmo dare ad Ampharos, ma prima ragazzi ci sarà anche da affrontare il capopalestra. Percorso 40, vi ricordo che abbiamo già fatto la cattura. Ora, ci dovrebbe essere la cattura delle isole spumarine che però forse ora non possiamo... Eh, vorticose, scusatemi. Cattura che forse ora però non possiamo fare perché non abbiamo mulinello. C'è la cattura di Fiordoropoli e poi forse basta, quindi potrebbe essercene solo una. Sinceramente non ci ho pensato quando ho scelto la challenge, ma vabbè raga, ormai si va così. Quindi, tanto non è una challenge che deve essere per forza destabilizzante, dicevo, per la serie appunto. Perché banalmente potrebbe anche portarci della fortuna. Potrebbe, potrebbe portarci della fortuna come potrebbe ammazzarci, però vabbè, questi sono dettagli. Ok, starevi a secco a questo Odish, possiamo subito proseguire? Dai, dimmi con me lo strumento. Ok. Io devo imparare a stare zitto. Allora, dobbiamo affrontare tutti gli allenatori, ragazzi, cerchiamo di rimuovere quello che è appena successo. Ma solo Jigglypuff, ma spiegami, ma che è il nuovo Tentacle? Hashtag nuovo Tentacle nei commenti. Dicevo, dobbiamo affrontare più allenatori possibili perché, ragazzi, Furio, c'è i Pokémon che sono Gesù Cristo sceso in terra. Sul serio, sono fortissimi. E quindi è il caso di allenarsi un pochino per questa, diciamo, battaglia, ecco. Namel! Tra l'altro il nostro Pokémon a funesto vento, ora non so se vi avevo fatto già vedere il moveset. Penso di sì, cosa ha fatto. Cosa? 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 Perché si è messo a fare idro cannone dal nulla questo? Pazzo. Allora, forse qualche pozione io ce l'ho. Due pozioni! Raga, oggi si va veramente di ricesse. Allora, affrontiamo anche questa qui, veloce. Sarebbe bellissimo, ragazzi, e qua me la sto tirando, vedere uno Staraptor in questa serie. A me piacerebbe davvero tantissimo. Che, oddio, non gli ho dato il soprannome! Non ci ho pensato. Non ci ho pensato, glielo daremo nel prossimo episodio, ragazzi. O mal che vada alla fine di questo, perché qualche idea effettivamente dovrei avercela in questo momento. Quindi, alla fine di questo episodio vedrò di volare dal name rater, magari facendo un taglio, e di dargli un soprannome decente. Quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati fino alla fine per scoprire che soprannome daremo al nostro bellissimo Starevia. Che sarà Starevia per poco, perché appunto gli cambieremo il nome. Basta, sti cancrivi per... Ok, mi ero dimenticato effettivamente che anche il mio Jigglypuff... Jigglypuff, oddio. Anche il mio Jigglypuff è per raggio. Ora, sì, perfetto, togliamolo. E mettiamo a sto punto davanti, direi, i Fuji, raga. Voglio andare un pochino tranquillo in questo momento. Ah! Percorso 41, serio? C'è un altro percorso, bella. Attenzione, primo catturo che non vale. Questo si è appena buttato giù dal faro, sta cercando di fare a nuoto per prendere le pozioni. Sei drogato! Ok. Ok, raga, lui non possiamo prenderlo. Ho preso qualche Poké Ball. Forse 10 Megaball, una roba del genere. Ok, questa cattura non è valida. Vediamo questa, ti prego, non cancro. Oh! Ok. Ok. Ok, non so sinceramente se fosse meglio Anforo o lui. So che Heracross non è malaccio come cattura. Non è per nulla male. Allora, vediamo come potrei... Forse con uno Spaccaroccia riesco a... No, io ho paura che questo qua si metta a farmi le mosse di tipo... Con le ottero... Stai fermo, Cristo! Lo sapevo! Allora, fermi, fatemi switchare. Eh, sì, fatemi decisamente switchare. Ok, Blur dovrebbe reggere tutto, più o meno. Cioè, qualsiasi sua mossa. Almeno quelle stab, diciamo. Se ti giuro, Blur, che se lo ammazzi, ti giuro che ti mando fuori dal team. Ok, perfetto. Ho paura sinceramente di indebolirlo di più, quindi io gli tiro una delle megaball. Quasi. Movimento sismico è molto inquietante come mossa. Fin troppo inquietante. Allora, provo a fare un altro acido. Mi si spillo, mi toglierà mezzo PS. Minchia, pensavo che stesse crittando. Stavo già per tirare giù i calendari di nove dratte, vi giuro. Che non so neanche cosa siano, ma vabbè, non è importante. Le calende egizie, cheat. Uno è proprio uguale, cazzo. Allora, dai, forza, entraci però. Uno, due, tre, sì! Sì, preso. Ora, non so come chiamarlo. Penso che lo chiamerò Barry. Perché effettivamente, se non ricordo male, Barry nell'anime aveva un Heracross. Quindi, ci sta Barry, che vedete già in sidebar, raga. Perché, oltre ad essere un buon Pokémon, è anche un livello decisamente alto. E quindi, penso che in ogni caso lo allenerò per il prossimo episodio. Ora, mettiamo davanti Strength, che comunque, raga, l'ho allenato e non mi sembra per nulla male. Iniziamo ad affrontare gli allenatori. Cioè, iniziamo come se non avessimo già iniziato. No, vi dicevo, Strength non è per nulla male, per quanto ho visto. E ha pure un moveset accettabile. Questo qua mi sta inculando. Ok, muori. Monkey è il secondo che vedo e a casa. Perfetto. Banetto, olè. Allora, questo è il tipo spettro, è un po' un problema per Strength, ma... Ok, ha fatto rimbalzo, sì, vero? Sì, perfetto. Surf. Uh, critical. Buttato giù tantissimo. Perfetto. Possiamo proseguire. Madonna, me li ricordavo un po' di meno questi allenatori, eh, sinceramente. Però, vabbè. Dettagli. Sandslash. Proviamo un surf. No. Figliono, non hai capito. Ok, perfetto. Vedete che se la cavicchia comunque come Pokémon non fa totalmente schifo. C'è da vedere, ragazzi, più avanti, quando i livelli saranno più alti, cosa riuscirà a darci come Pokémon. Perché effettivamente il problema dei Pokémon, magari dei primi percorsi, è che sono ottimi all'inizio. Su questo non ci piove. All'inizio, però, perché poi dopo cominciano a far cagare la Madonna. Ehm, perfetto. Io non ho nessuna cosa per curarlo. Dalla confusione, l'ho quasi seccato. Marte il pugno. Eh, quasi. Dai, ci riproviamo. Oh, ok, perfetto. Giù Magneton. Diglett, raga, proprio una cima, a quanto mi dicono. Veramente, Fuji stava già tremando dalla paura. Per fortuna che ha creduto in se stesso e riuscito a buttarlo giù, perché altrimenti... Ok, vedo che la squadra è decisamente tartassata. Io non ho pozioni, mi fa davvero un piacere no. Basta, quanti sono, raga? Sono infiniti, ma veramente. E io in questo episodio vorrei fare la palestra, pensate... Uh, qui lava, attenzione. Ritorna a Pokémon Crepuscolo da nulla. No, stai fermo. Stai fermo, non sono uno zombie, figliolo. Io no, io no, veramente. Allora... No, ma davvero è così lungo sto percorso? Ma io... 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 Cresselia, giustamente. Allora, devo switchare per forza, perché altrimenti qua prendo una di quelle batoste che me le ricordo fino alla fine dei miei giorni. Allora, che io volendo potrei iniziare a spammare un po' di perforcorno. Però, 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 direi di no. C'è tempo, ragazzi, per vedere perforcorno colpire. Tipo adesso, no, nulla da fare. Prendilo, prendilo! Psicotaglio, prendilo! Oh, ok, perfetto, raga, se no non ce l'avrei più fatta. Blur vuole imparare fangobomba. Boh, raga, al posto di acido, perché non? Perché... perché non? Cosa vuol dire perché non? Scrivetevi nei commenti una definizione della parola perché non. Così da sola. Che cosa vuol dire senza alcun aggettivo, verbo, ausiliare, bestemmia dietro. Eeeh... Hondur non sarebbe stato malaccio. Noi di Pokémon di tipo fuoco non ne abbiamo. Non sarebbe stato malaccio, Hondur, lo ammetto. Di notte gli Stario si riuniscono nella spiaggia dell'Ivinopoli e stuprano le vecchiette. Perfetto, mi fa piacere. Cioè, no, per fortuna. No, al ritorno di vegan, attenzione, incredibile. Tra l'altro, raga, vegan io sono abituato a ricordarmelo, tipo, quando me lo trovo davanti. Mi ricordo proprio come Snakewood perché c'era tipo Psypix, se non sbaglio si chiamava, che era una cazzo di... Era tipo una salamella con attaccata la faccia di Gramping. Già una figata, tipo fuoco, se non ricordo male. Fuoco psico, forse. Ralz, questo qua dovrebbe andare giù tranquillamente con un Ero Assalto. Sì, esatto. Tra l'altro mi sono accorto che effettivamente non abbiamo controllato come ha messo Barry. Quindi andiamo subito a vedere. Erba aiuto, guardate, utilissima, ma proprio come poche cose al mondo. Sì, direi che un Eracross normale, segno raggio. Forza, ecco, forza sfera, forse da togliere, a giudicare da attacco speciale. Figa pure segno raggio, ma ok, no, è un Eracross cancerogeno, scherzavo. Allora, sì, come prevedevo, le isole Spumarine non saranno visitabili. Che causa, non ho il mulinello. Però le potremo visitare quando dopo, se non sbaglio, la Tana del Drago si chiamava. Sapete che non ricordo. Dovrebbe essere appena dopo la Tana del Drago. Tra l'altro, ragazzi, Tana del Drago è uno dei miei posti preferiti di questa generazione. Uno spettacolo. Forse, no, beh, il migliore di Yoto no, perché a Yoto ce ne sono. Cioè, la Torre Campana è una gran figata. Però, obiettivamente, la Tana del Drago è una gran roba. Il problema è che non ricordo se effettivamente si chiamasse Tana del Drago, ma penso di sì. Ok, no, è troppo pericolosa come mossa, sinceramente. In una Nazlock, perché devo farmi un turno di pausa e si rischia. Sì! Sì! Missingno! Trovato Missingno! Evviva! Che bellezza! Qua ci potrei fare il clickbait, ma evito. E vabbè. Usciamo da qua e in teoria tra poco dovremmo essere arrivati a Fiordoropoli. Ancora Anfarossi, voglio arrivare assolutamente a un centro po'. Basta che schifezza, minchia! Oh! Allora. Io credo di aver detto Fiordoropoli per tutto l'episodio. Quindi. O soffro di qualche sindrome sconosciuta del genere umano. O sono un coglione. E io opterei per la prima opzione. Quindi ragazzi, bene! Allora, se voi nei commenti avete rotto le... Mi avrei dimenticato questo passaggio. Se voi nei commenti avete rotto le balle perché ho detto Fiordoropoli anziché... Oddio, anziché Fiordoropoli. Non avete visto tutto il video? Vi picchia sangue. Perfetto. Come fa a ricadere le colpe sugli iscritti. Cattura, ma ricordiamoci che questa non vale. Non so come comportarmi. Allora. Come cattura non è valida. Quindi, penso di... Perché è Spice's Close. Quindi ne faccio un'altra che non è valida. E quella dopo è valida. Spero di essermi spiegato. Dio grazie. Dio grazie. Grazie al Signore veramente che non mi ha fatto trovare Finion. Ti prego fammi trovare un coso decente. Ti scoggiurlo nel nome del Signore Gesù Cristo. Ti prego, Madonna Dio. È poco. Bella la vita! Evviva! Che cosa fantastica. Allora, tu non dovresti... Cosa fa esattamente? Movimento sismico, raga. Pari al livello di chi la usa? Dai, questo coso qua ci avrà 22 PS. Spero. Seccalo. Cioè, non seccarlo. Scherzavo. Acqua di sale, stai fermo. Ok, boh, gli spammo un po' di Megaball. Ok, l'ho preso. Questo non so assolutamente come chiamarlo. Lo chiamo... Lo chiamo... Non lo so, un pesce. È un pesce. Non ne ho idea. Come lo chiami? Come lo chiamereste voi? Un Finion? Lo chiamo Jake. Perché è Fin Jake. Avete presente? No, Adventure Time. Sì, ciao, sparatemi. Fake. Eh, fake. Sì, ma magari lo chiamassi fake. Invece no, me lo devo tenere lo stronzo. Ok, messo al PC, ragazzi. Direi di andare verso Suicun. Se non sbaglio, ora si dovrebbe affrontare Eugenius. Non vorrei sparare una cagata. Intanto Suicun che ci fa la danza della pioggia davanti. Perfetto, cammina sull'acqua. Suicun alias Gesù Cristo, evidentemente. Ciao, Creepy. Ma quello non era Suicun. No, era Tumà. L'ho visto solo di sfuggita. Ma mi è apparso che fosse proprio un Suicun che correva a pelo d'acqua. Suicun è bello e maestoso. Corre per i sentieri e le città ad una velocità spaventosa. È meraviglioso. Voglio vederlo più da vicino. Ho deciso. Ti sfiderò. Esattamente. Perfetto. Ti prendo a sculacciate sul pisello, caro mio. Cioè, che è un po' una contraddizione. Non è... Cosa? Classi allenatore Dio! Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Spiegatevi... Questo! E il colmo sarebbe che adesso ti la caccia fuori in Arceus, perché... Guardate! Wayne God! Il gioco è blasfemo! L'unico vero Dio è merda! Questa ROM mi stupisce sempre di più. Ferrari Gator utilizza il divieto. Il divieto di culto! Raga, Eugenius è blasfemo e ci vuole privare della nostra religione. Quindi, hashtag inquisizione, non lo so, qualcosa. Madonna, che roba assurda. Ok, perfetto. Exeggutor con veleno croce dovrebbe andare giù. Fate un'inquisizione, vi prego, mettetevi al bando tutti sti eretici. Brutto colpo a casa, è stato un piacere. No, io non leggerò i tuoi dialoghi. Non parlo con un eretico infame. Eugenius, raga, è l'eretico. Non ci credo. Che roba assurda, veramente. Si spaccia Dio. Ma... Sono indignato. Sono indignato da questi atteggiamenti. Ora, prima di andare ad affrontare la palestra andiamo a prendere la medicina che è qua dentro. Perché vado prima a prendere la medicina? Perché voglio comprarmi un paio di rimedi. Oh figa, no, che idiota! È vero! Non ci ho pensato. Perché, raga... Cioè... Prima noi dobbiamo andare da Anfaros e poi... Andare a prendere la medicina. Perché altrimenti lo strozzo non ce la dà. Hai capito il gioco di merda? Hai capito? E io questa roba qua non la sapevo. Sono stato colto totalmente impreparato. Allora vorrei dire, ragazzi, che nel prossimo episodio... Cazzo, fa tu la ca... Non so cosa fare. Premesso che anch'io c'ho un perforcorno volendo, ma... Allora, calma, 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 calma. Poi finisco il mio discorso. Dimmi che con l'acciaio va giù. Ti prego, vai giù. Vai giù. Questo qua banalmente con un terremoto mi secca? No, no, no. Sì, sì! Sì, sei scemo! Sei scemo! Sei scemo! C'hai due neuroni che si picchiano da soli in quel cervello. Ok. Penso di aver visto la morte in faccia. Letteralmente. Possiamo proseguire. Dicevo, a sto punto, ragazzi, nel prossimo episodio andremo al faro, andremo a parlare all'Anforos, poi farò un salto veloce qua per prendere la pozione, e poi torneremo a risvegliare l'Anforos, a risvegliare l'Anforos, a curare l'Anforos, barra affrontare Jasmine. Mi dispiace, sinceramente non sapevo di questa cosa qua, pensavo che le cose fossero interscambiabili, invece evidentemente non è così. E quindi nulla, ho invertito un po' le regole del gioco, sta di fatto che la cosa potrebbe giovare a mio svantaggio, perché in teoria il gioco è fatto in modo tale che tu, seguendo un preciso ordine, incontri allenatori proporzionali alla tua forza. Evidentemente ciò non succederà ora, quindi yeah, che bella cosa, ho paura. Allora, vi ricordo, ragazzi, che in questa palestra sarà necessario spegnere la cascata che sta frantumando le ossa craniche di Furio. Per fare ciò dovremo prendere due pulsanti situati al di sopra della palestra. Per premere questi due pulsanti ci saranno 350 karateka che dovranno rompere le balle con il loro smochium. Olè, perfetto, questo è andato a casa. Allora, facciamo salire di un qualche livello Fuji, stavo dicendo Furio, madonna la pazzia. Fuji per il semplice fatto, ragazzi, che se facciamo salire di livello Fuji, in teoria dovrebbe essere il poco migliore che abbiamo per la palestra e quindi, sapete, potrebbe tornarci utile. Gelo lancia un PS. Devo dire, sei proprio... ma guarda, oh, terrificante, non avete idea, raga, mi sto cagando sotto. Allora, pestone pure su Roselia, cosa fai? Muori, perfetto. Eh, cosa devo dire? È tornato per giustiziare l'eretico. È tornato per giustiziare il fottuto eretico. John Frog. Che purtroppo abbiamo dovuto sconfiggere. Però ragazzi, questo è un segno. Merda, sta cominciando a inseguire Eugenius e questo morirà alla fine di questa serie. Detto ciò, perfetto, andiamo a prendere... a preme... a prendere. A premere questo pulsante oggi, li sto cannando tutti, raga. Sembro diventato un dislessico. Mi chiamo... cambio il nome del canale in Luca Giurato, tra un attimo. Di qua si può passare? No. Ok, perfetto. Furio si è svegliato. Il furio si è svegliato e ci sconfiggerà. Ma merda dal cielo scenderà e una bastonata in testa gli tirerà. Toglietemi la droga, toglietemi la droga, toglietemi la droga, toglietemi la droga. Nel frattempo sì, ci siamo andati a curare nel caso non ve ne foste accorti. E nulla, ragazzi. Io spero che un manicomio qua vicino possa accogliermi e andiamo ad affrontare furio. Non dirmi che la cascata è tornata giù. Dio! Dio. Il vero Dio, non Eugenius, ragazzi. Ok, perfetto. Siamo a 21 minuti. Se la battaglia non si protrae per troppo tempo, sentite che bei termini, dovremmo riuscire a farcela. Poi, ripeto, nel prossimo episodio cercheremo di completare tutta la roba di Anforos. Sinceramente, ho sbagliato, chiedo Venia. Devo dargli un doppiaggio. Oh! Loco di loco scoto! Che mi scorre sulla testa, brrrr. Piuttosto, hey, tu. Come osi di rompere il mio destramento? Ti avverto, sono fortissimo. Ogni giorno la cascata mi reinvigorisce. Cosa? Non c'entra niente coi Pokémon? Già, già. Passiamo all'azione. Mi è venuto un cancro alla gola nel frattempo. Tristian! Perfetto. No, sul serio. Penso di avere qualche ebola. Rich Kid non mi sembra, visto che non ha vestiti. Girafarig! Perfetto. Livello 29, Cristo Dio. Ok, è fortissimo. Tra l'altro, è psico, quindi io per evitare cazzate manderei... Fuji. Mandiamo Fuji, sì. Allora, vediamo un po' cosa riesce a fare. In teoria dovrebbe riuscire con calma a sconfiggerlo, perché... Hey, è un Girafarig. Aumenta l'attacco speciale. Quello che non doveva fare. Perfetto. Meditazione, cosa ti aumenta, vero? Attacco è attacco speciale, eh? No, solo l'attacco. Apriamo un pestone così di ignoranza, proprio su due piedi? Cioè, perché... Perché hai pestone, quindi... Qualcuno che mi uccida? Per piacere, da qualche parla. Non lo so, qualcuno ci sarà prima o poi che mi tirerà sotto con una macchina. Allora, ti giuro, su Dio, che finché fai falso finale non mi butti giù. Chissà perché. Veleno croce, vediamo se riesco a mandarti giù. Sì! Perfetto. Ho paura di vedere il suo Pokémon al 31. Qua non riusciamo a vivi. Non perderò così... Non perderò così facilmente! Comunque sì, era una voce molto death metal, raga. Questo qua, raga, è imbattibile. Lucidatura. Allora, fermi. Noi abbiamo Strength con... Tra... Oh, cazzo, devo cambiare il soprannome anche a lui. Dobbiamo farlo alla fine di questo episodio, raga. Ok. Dobbiamo andare a dare un fottio di soprannomi. Ok. Oh, devi colpirlo! Olè! Ce l'abbiamo fatta! No, però, Dio. Dai, cazzo, non è possibile, Strength. No, l'iperpozione! C'hai la madre in tangenziale, te lo giuro! In tangenziale! A vendere i calippi! A vendere i calippi! Guardalo! Porca troia! Poi Critta! Critta, come se non ci fosse un futuro! Ma Cristo, muori! Schiatta! Godo! Ma che cazzo? Ha crittato quattro volte! Andiamo a vedere che MT è a centripugno, va. Ho paura. Capocciata, perfetto. Ti la tiro in te, sul petto, Zidane. Questa qua mi dà volo, raga, se non ricordo male. E potrei insegnarla subito a un Pokémon. Anzi, la insegno subito a un Pokémon. Perché dobbiamo volare. Fare la voce Metal, ma... Un po' scordato, diciamo. Le corde vocali. E nulla. Dobbiamo andare a Fiordoropoli. Stavolta sì, l'ho presa. Per andare a dare i soprannomi. Andare a dare, che bellezza. Andare a affibbiare i soprannomi ai nostri Pokémon. Quindi, ora... Eh no, figa. Allora. Volo. Vediamo che possiamo insegnarlo. Io, raga, sinceramente, andrei su Starevia per il semplice fatto che è Stub. Togliamo vento in coda, che non è molto utile. E andiamo subito. Allora, io devo cambiare Strength al buon Strength, giustamente. Perché si scrive in maniera diversa. Adesso andiamo subito a vedere come. È veloce, però, possibilmente. Ok, perfetto. Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? È stato inquietante. Decisamente. Allora. Strength. Gli dobbiamo cambiare l'H. Quindi sarebbe S. T. Dov'è da T? Dove sei infame? Strength. Strength. Così è. Perfetto. Io, invece, l'H l'avevo messa tra la G e la T. Spero. Spero di non aver fatto un'altra cagata. Stare via, sinceramente. Ho un po' di dubbi su come chiamarlo. Quasi quasi, raga. Faccio un taglio e mi decido su quale soprannome dargli. Quindi, sì, direi che si può fare così. Quindi, ci becchiamo tra un attimo. Questo è stato il risultato di... Un po' di tempo di riflessione. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Consigliatemi altre challenge, rispondete alla domanda del giorno. Sparatemi. Premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed dei canali. che ogni tanto decidono di partire in Congo per una vacanza nella foresta. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Sempre che io non mi suicidi prima. Ciao.